Buongiorno a tutti, eccoci qui sui Pavoni ingrifati e su Championship Manager 2003-2004 Eriamo rimasti con le due bruttissime partite disputate contro Ancona e Siena con uno 0-0 Davvero brutto, soprattutto dopo l'infortunio di Todorov ci si poteva aspettare davvero un attacco un po' più scarso Ma non in questa maniera così clamorosa Fortunatamente torna Todorov, vedete anche Bazzini scontento, fra poco scoprirete anche il perché nelle notizie di questa settimana In Champions League, Coppa dei Campioni, il Milan vince 2-0 contro l'Austria-Vienna e finisce il suo gruppo a punteggio pieno incredibilmente Invece Juventus vince 3-0 col Besiktas Invece sempre in Coppa dei Campioni, il capo canonieri al momento è incredibilmente un giocatore dello Shakhtar Che è Julius Agawawa, scusate per la pronuncia, non è semplice Poi c'è Arian Robben, Herman Crespo, Sokota e Nido Tutte squadre non italiane Invece Bazzini scontento per il rifiuto dell'offerta perché il giocatore era stato richiesto dal Deportivo della Curugna Ma la Sampa ha rifiutato al momento ovviamente l'offerta della squadra spagnola Invece Juventus ingaggia Luis Enrique a sorpresa per 3 milioni e mezzo dal Barcellona Arriverà il primo gennaio dell'anno prossimo, nel prossimo calciomercato Queste erano le notizie di questa settimana Ora torniamo negli spogliatoi della Sampdoria per la parità Perugia-Sampdoria Eccoci tornati negli spogliatoi della Sampdoria E come dicevo appunto nelle notizie Bazzani è scontento Ma non importa, visto che il nostro terzo attaccante Probabilmente verrà venduto a gennaio se arriverà la buona offerta Ma nel frattempo volevo dare un occhio anche alla Champions League Avete visto che il Milan, la Juventus, l'Inter, la Lazio Tutti hanno 4 vinto ma soltanto 3 sono passate per il turno successivo La Lazio è andata in Coppa UEFA Il Milan, le grandi statistiche di questo Milan è che ha vinto il Girona Punteggio pieno senza subire gol facendone soltanto 7 Ha vinto tutte le partite ma facendo soltanto 7 gol subendone 0 Clamoroso Davvero clamoroso, non so se è mai successo una cosa del genere E basta avanza, vedete qua il Milan è 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, tutto 1-0 E soltanto l'ultima ha vinto a 2-0 Quindi davvero è un dato curioso curioso, invece il Ventus è passato a seconda e l'Inter pure, ora invece tocca a noi contro il Perugia, perità davvero tosta, questo è il Milan, ma che cazzo è il Siena, Perugia, perità abbastanza tosta visto che il Perugia si trova in ottava posizione, ora andremo a vedere anche la loro formazione, ottavo quindi noi siamo settimi, quindi ci giochiamo i posti in Europa, una sconfitta sarebbe davvero pesante, comunque eccolo qui la formazione del Perugia, con Rapaice e Mangalanes in attacco, un attacco fortissimo possiamo dire, in centrocampo non è male visto che c'è BAU, ex Milan, non so se penso che sia già stato al Milan, forse è in prestito al Milan, no, era del primavera del Milan, poi è passato al Trestina, anche ex Trestina, anzi appunto era del Trestina dicevo, l'ha acquistato quest'anno il Perugia nel gioco proprio, intendo, Gatti, buon centrocampista tedesco, ex Palermo, anche Botroid, gran giocatore che ha giocato quasi sempre a Perugia mi sembra, no, è da quest'anno, poi giocherà per un po' di tempo, ha giocato in Inghilterra, Zemaria è soltanto in panchina, la difesa con diamutene di Lorette e Culli non male, è in porta, Kallac o Kallac che poi sarà del futuro del Milan, Obodo è fuori, ottimo giocampista come Fabio Grosso che nel gioco è davvero forte, non come nella realtà anche in quegli anni non era così forte, soldando poi tre anni dopo appunto andrà ai mondiali clamorosamente, entra protagonista, Vrizzas neanche in panchina, strano, con la stellina probabilmente non è in campo al momento ma per me contro di noi giocherà, e per il resto diamutene c'è anche, l'ho già detto, che scemo, anche Zemaria è stellina ma non è in campo, c'è anche uno standardo che è in prestito al Catania, Pagliuca non è proprio Pagliuca, ovviamente è un centrocampista che non conosco sinceramente, non è la squadra che mi aspettavo, è una squadra molto più forte forse perché non è quel Perugia lì di Cosmi, è un po' di anni dopo che verrà fuori quello che andrà in Coppa UEFA, forse quello di quest'anno, non mi ricordo ma mi ricordo che c'erano altri giocatori un po' più forti, in attacco soprattutto, però vabbè, iniziamo con Azenoni è squalificato, quindi Fue Zenoni dentro Falcone o Diana, facciamo giocare Diana per una volta, dove dovrebbe giocare, e a destra gioca Doni e qua gioca Volpi, ok, in panchina va Mirko Conte, Todor ve l'ho messo in campo, si, si parte quindi con Perugia e Sampdoria, perita tosta questa, vediamo un po' Perugia come gioca, c'è Vrizzas appunto, c'è, e Zemaria c'è, Zemaria, non lo vedo, non c'è, non è neanche in panchina, che cazzo è successo? Vabbè, avranno discusso con l'allenatore, comunque si parte con Perugia e Sampdoria, Prapaic, Gatti, Fusani, 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 fa una buona per Mangalè per adesso, ma fuori gioco, fuori gioco, Luacca Antonioli, ma fuori gioco, quindi, di sua preoccupazione, ma al momento perità molto unioso, siamo al ventesimo minuto, non è successo assolutamente niente, tranne un giallo per Job, immagino, sì, andiamo a vedere altre pareti, no, perché non ci sono altre pareti, è solo un anticipo questo, serai del sabato, Volpi, Volpi, attenzione, è bello questo cross in mezzo, di testa Flachy, di testa Flachy, una notizia questa, anticipa pure il suo compagno Todorov, attenzione qui, Bau, sei molto veloce, ma bravissimo Zivkovic, un tunnel a Bau, se ne va Job, Job, molto molto lento, ma se ne va, Bau l'ho usato col Trestina, ho giocato una volta in questo gioco col Trestina, ed è un gran giocatore, no Job, bravissimo, bellissimo cross, Flachy, una bella girata, Bau è molto veloce, è anche molto bravo davanti al portiere, bisogna stare attenti, però gioco come ala in questo caso nel Perugia, primo tempo dove abbiamo fatto sicuramente di più della scuola di casa, attenzione Flachy, calcio d'angolo, palle in mezzo, sembra buonissima, e c'è il gol di Grandoni, il primo gol stagionale per lui, è il primo gol anche con la maniera della Sampdoria, Grandoni, 1-0 Samp, ci stava il risultato, vantaggio e ora dobbiamo amministrarlo bene, Vrizzas, Grandoni, tocca palla per Manganales, la piazza, ma la palla non gira, palla che esce, fortunatamente per noi, subito risponde bene il Perugia però, attenzione perché attacca adesso, Rapidic, palla per Vrizzas, tiraccio di Vrizzas, palla che esce, in mezzo al fondo per la Sampdoria, adesso non cambia il Perugia, non ho visto chi, attenzione a un fallo di Grandoni, da chiaro che esce una gol e forse anche da ultimo uomo, se è l'ultimo uomo qui c'è ancora Rego dell'ultimo uomo, quindi se è l'ultimo uomo è rosso, aiuto, no è solo giallo fortunatamente, non era chiara occasione di gol ovviamente, ma neanche l'ultimo uomo, di Loreto, punizione corta qui per Rapai, Rapai c'è palla in mezzo, sembra uno schema, Vrizzas di testa, come va nel Perugia? Ha entrato questo Margiotta, che non so chi sia Margiotta, Diamutene è entrato anche, presso dal Vicenza, bah, non mi sembra nulla di che, facciamo anche noi dei cammi perché vedo che stiamo soffrendo molto, Agnes ha fatto male Todorov, meglio non rischiarlo, entra Bazzai nel suo posto, cosa c'è Falcone, perché c'è Falcone qui? Mio Dio ho messo Falcone nel centrocampista, madonna, non me ne ero accorto, c'è andata benissimo, di lusso, per ora, adesso perdiamo poi come sta Doni, invece il tempo passa velocemente, aiuto, novantesimo minuto, Grandoni, bravissimo, spazzia via Bazzani, per Dio, prendila, non la prende, Fusani, al volo, Antonioni salva, e probabilmente questa è l'ultima azione, speriamo, Dio, tienila, tienila, o lanciali al 28, a Job, ma cosa lanci in mezzo, che non c'è nessuno dei nostri, data l'ultima probabilità quindi alla Perugia, ma Vrizzas sbaglia tutto, malissimo l'attacco del Perugia oggi, davvero male, oh madonna, santa, novantaduesimo, di Adonagone, Rabacic, si salva, all'ultimo secondo, tieni questa dannata palla, o lancia per Job, niente, però va a far culo, bravo Grandoni, uno dei migliori in campo, anzi sicuramente il migliore, Palombo, palla per Job, Job, se ne provo ad andare, diamo, tiene in vantaggio, la tiene lì, ma mancano soltanto 5 secondi alla fine, 3 secondi, 2, 1, palla nostra, fischia, dannato arbitro, e fischia così, la Sampdoria, batte il Perugia, e spugna quindi il Renato Curri, e vinciamo 1-0, e la classifica parla chiaro, andiamo al sesto posto, però il Milan ha ben due partite in meno, visto che ha giocato il mondiale per club, quindi questo sesto posto molto, molto virtuale, anche perché anche le altre squadre devono andare a giocare, tranne la Roma, però comunque, ce lo teniamo dal Perugia, comunque settimo posto penso che sia ancora Europa, non ne sono certo, penso che sia intertotto, Totoro fortunatamente soltanto un giorno, un fortunio al collo, cos'è un fortunio al collo? Cosa si è fatto al collo? Intanto le altre, le partite del pomeriggio, con l'Inter che parisce 0-0, vedo qua sotto, quindi la Roma fugge, il Milan deve perdere, perde, perde, Milan, Milan deve perdere, c'è la Bidolaf e Messina 3-0, a Fellino 5-1 ha vinto, comunque non male questa partita, ho giocato abbastanza bene, al primo tempo abbiamo avuto più occasioni sicuramente, con Flacchi, soprattutto contro il Toro 0, mi sembra, Milan vince 3-1 invece contro il Siena, con Inzaghi e Shevchenko, l'Inter 0-0 che abbiamo già visto, con Kili, con Zerese infortunato, l'Udinese vince contro il Lecce, Regina chieva uno scontro salvezza, finisce in parità, Brescia e Impoli, uno scontro da metà classifica 1-1, classico, Lazio vince, attenzione, Lazio che in Champions fatto male arrivando terza, qua invece vola e si trova al terzo posto, a soltanto un punto dal secondo, a 4 dalla Roma, la Juventus invece giocherà al posticipo, che ora andremo a vedere, in Piacenza stanno molto male in Serie B, invece qui c'è Palermo, Torino, Atalanta, Vicenza e Verona, che si giocano, e Avellino, che stanno giocando i posti, anche in Napoli, quasi tutti, visto che in 6 vanno ai play-off, e tranne il Palermo, che in caso vincerebbe, la Serie B andrà bene a diretta, come adesso, le regole sono le stesse, e sarebbe davvero l'anno prossimo un bellissimo campionato, con altre bellissime squadre. Tanto vi è un po', un big match tra Juventus-Parmac, Juventus vince con Alessandro, Alessandro del Piero, un 2-0, quindi secondo posto, tutti lì attaccati, i primi 4, sono lì con soltanto 4 punti, il Milan però, vincendo, andrebbe proprio a un punto dietro la Lazio, e sarebbe un bellissimo campionato per i primi posti. Noi invece ci giochiamo probabilmente il sesto-settimo posto con Parma e in mille altre squadre dietro, perché adesso il Perugia è crollato, e però ha creato un po' di spazio tra noi e l'Udinese, molto bene. Il prossimo avversario è il Modena, Modena a quattordicesimo, bene, poi Udinese. Vediamo, vediamo un po' come andrà. Ci vediamo quindi per la prossima partita contro il Modena in casa. Ciao a tutti!